È stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi nelle acque della Pianlassa Baiona, il corpo senza vita di un anziano 84 anni di Ghibullo. L'allarme era scattato in tarda mattinata, quando i parenti non l'avevano visto rincasare. Le ricerche erano state subito dirette nello specchio d'acqua alle spalle di Marina Romea, dove in via delle valli l'uomo aveva un piccolo capanno. Era sua abitudine infatti recarsi in acqua, con la sua piccola imbarcazione non per pescare ma per raccogliere i rami e i tronchetti di cui è ricca la Pianlassa. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla riva, trasportato dalle correnti, così come la sua piccola imbarcazione. Ad accorgersi del corpo alcuni abitui del posto, che dopo averlo notato hanno chiamato i soccorsi, ma è stato tutto inutile. Sul posto, oltre ai sommorsatori dei vigili del fuoco, un'autoambulanza e un'auto medicalizzata, anche gli uomini dei carabinieri. Ora bisognerà attendere il referto del medico legale per stabilire le cause dell'eccesso, se per un malore o se a seguito della caduta in acqua.